Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi oramai le ore sono contate non manca veramente moltissimo all'arrivo della tanto attesa stagione numero 10 che già si sta preannunciando veramente molto molto più interessante della season 9 che stiamo giocando tuttora vi ricordo sempre che il primo agosto vi aspetto per il record di visual in tempo reale di spettatori con tutti i leaks della season 10 la vivremo in tempo reale questa transizione dalla 9 alla 10 ma nel video di oggi ragazzi parleremo ancora di world cup incredibile si è scoperto da pochissime ore che un player russo è stato squalificato durante la world cup e per due settimane da tutti i giochi di fortnite per aver citato ragazzi no chattato citato cioè aver utilizzato un comportamento scorretto che non era ovviamente accettabile ve lo farò vedere vi farò vedere delle immagini parleremo anche del secondo teaser e di tutte le informazioni che è giusto che sappiate per poter essere super aggiornati ed ovviamente anche un po' di leaks per tenervi al passo con tutto quello che c'è nel retro di fortnite prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima questa è bella questa è bella questa è bella ragazzi la domandina la domandina ve la devo fare perché mi rispondete un fotio di persone nei commenti qua sotto e oggi è davvero molto nostalgica ma te lo ricordi uno dei tuoi primi punti di atterraggio dai quando avete iniziato a giocare a fortnite cercate di fare un pochettino di pressione sulle meningi dov'è che siete atterrati le prime volte ragazzi io ho la fortuna di avere un'immagine del mio primo atterraggio ed è proprio questa ragazzi un uno xuder nella fine del settembre 2017 che per la prima volta prende in mano fortnite ed atterra nella casa più a sinistra di parco pacifico ragazzi tanta tanta roba ricordo adesso che ho visto l'immagine il punto di atterraggio questo è stato il mio primissimo punto di atterraggio ma quindi ciancio alle bande e vando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare nuovamente di world cup intanto questa immagine è assolutamente meravigliosa come si vede penso sia la più bella presa dall'evento oramai terminato due giorni fa palazzetto pieno l'olimpia stadium pieno il la competizione che sta per iniziare l'ultimo match mi hanno bannato mi hanno bannato il russo raga me l'hanno blindato guarda che cosa fa le twix 14 anni ragazzi cercava di fare il furbo e non so se voi capite questa immagine ve lo spiego vedete che lui è messo così no non sta guardando il suo schermo ma il genio del male sta guardando lo schermo gigante nel palazzetto per capire dove sono gli altri infatti se voi guardate dietro l'immagine ripresa c'è proprio lui con la testa c'è un pezzo di testa che esce così purtroppo gli è costata questa cosa ha giocato per un po poi si sono accorti i giudici di gara due settimane di sospensione dell'account su fortnite e ban immediato dalla competizione e ovviamente lui disperato doveva assolutamente non fare questa pirlata ma vorrei anche farvi notare una cosa incredibile delle world cup ragazzi il signor kyle gindersolf in arte buga tutti ormai lo conosciamo così si è portato a casa la bellezza di 3 milioni 25 mila 900 dollari ed attualmente è probabilmente il premio singolo più alto dato ad una competizione sportiva perché se andiamo a vedere al secondo posto c'è al campionato di wimbledon quindi tennis novak jokovic come caspita si pronuncia 2 milioni 983 mila dollari al 2019 abbiamo tiger woods come sempre parliamo di golf 2 milioni di dollari e spicci e sempre nel 2019 brooks cupa del pga che dovrebbe essere pga è sempre è sempre golf non lo so ragazzi un milione e 900 milioni baseball non lo so cosa caspita del pga comunque 3 milioni ragazzi un premio veramente altissimo che si porta a casa e che cambia la vita ovviamente di kyle andiamo avanti ragazzi con i prossimi argomenti eccolo qua l'avete già visto tutti ho caricato anche io il video pochi secondi dopo che è stato pubblicato sulla pagina twitter di fortnite oggi ne uscirà un altro ragazzi il teaser numero 2 racchiude in realtà tante tante cose incredibili la descrizione ci dice look into the future quindi guarda verso il futuro quello di ieri ci diceva look into the past guarda verso il passato cosa notiamo da questa immagine innanzitutto il robot gigante ragazzi un robot gigante lo vedo abbastanza incazzolato nel senso non credo che sia uno dei buoni penso che sia uno dei cattivi sopra una montagna di macerie rottami qualcosa è di distrutto e con al posto delle mani due raggi probabilmente che faranno davvero brutto ma la cosa incredibile ragazzi o comunque curioso sono i due simboli ai lati cosa sono i due simboli ai lati sono praticamente ragazzi riconducibili ad una skin che anche noi in realtà abbiamo già visto dai che avete capito qual è sicuramente ragazzi sto proprio parlando di lui che in questa immagine ancora non si capisce ma ovviamente l'immagine di prima ci faceva capire che è il visitor ragazzi season del visitor adesso io qua so che mi correggerete ma secondo me era la numero 4 so che mi correggerete se ho sbagliato vi chiedo scusa non posso ricordarmi tutte le cose a memoria ragazzi questa immagine zoomata invece è quella relativa proprio al robottone giga e come vedete la testa è davvero molto molto somigliante a quella del visitor tra l'altro tra l'altro c'è un'altra curiosità voglio farvi rivedere perché ve l'avevo già fatto vedere qualche giorno fa quello che fu l'evento del rocket e farvi ascoltare che cosa si dice nella musica e nella voce di sottofondo avete sentito ve lo faccio risentire una volta dice zero point zero point ragazzi stesso stesso nome scritto da donald mustard quando ha pubblicato la sua modifica della location tra l'altro l'altro simbolo del teaser è molto molto simile al rocket ragazzi come vedete il triangolo con la freccia all'ingiù potrebbe star a significare proprio un ritorno del razzo ragazzi uno degli eventi cap davvero più stato apprezzato da tutta l'utenza di fortnite io l'ho visto con qualche ora di ritardo perché non c'ero ma è stato davvero meraviglioso tra l'altro un piccolo fatto che mi ricordo io in quel in quell'evento ci fu il record mondiale tuttora imbattuto di kill in singolo fatte da un tizio che ha fatto 51 kill perché tutti allora si potevano si poteva sparare negli eventi e come si dice tutti nella lobby avevano creato avevano fatto delle scale e poi una piattaforma ed erano saliti tutti per guardare il razzo il genio bello fresco ha tirato due picconate alla scala ha fatto 51 kill c'è il mio video è in giro ragazzi e quindi tanta tanta roba anche per questo nuovo teaser tra l'altro nella schermata quella che nascondeva appunto il segreto della season 9 ci sono proprio i tre magazzini che sono stati ieri liccati nel teaser numero 1 insomma ragazzi la season è alle porte l'hype è sempre più grande e io non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura insieme a voi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao